Sgominata confraternita nigeriana, la direzione distrettuale antimafia dell'Aquila ha disposto il fermo per 19 persone con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli arrestati farebbero parte della Supreme Haye Confraternity, gruppo criminale gerarchico nato dalla scissione dal Black Axe, culto studentesco nato alla fine degli anni 70 per la liberazione del popolo nero dagli oppressori. L'operazione, denominata Pescia, avrebbe svelato le dinamiche del gruppo che controllerebbe la zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. Per entrare nella confraternita ci sarebbe un rito di affiliazione nel quale si presta giuramento agli Ibaka, ovvero i capi, e vi sarebbe anche una sorta di tassa di iscrizione. Secondo gli investigatori, l'organizzazione sarebbe dedita al riciclaggio, all'illecita intermediazione finanziaria verso la Nigeria, alla tratta delle donne, allo spaccio e ad azioni violente verso i membri dei gruppi rivali. Le indagini sono partite quando uno degli appartenenti alla confraternita, dopo un violento pestaggio subito, ha deciso di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Da qui sono state documentate aggressioni avvenute a Martinsicuro, scontri a Pesaro e Ancona, con i rivali Black Axe, violenze contro donne costrette a prostituirsi lungo la strada provinciale Bonifica del Tronto. Il fermo è stato disposto in fretta e furia perché, secondo gli investigatori, molti erano pronti a fuggire verso il nord Europa. Delle 19 persone incriminate, 14 sono state poste in stato di fermo, 5 sarebbero attualmente in latitanza.